I quattro canali di comunicazione non verbale, prossemica, cinesica, paralinguistica, digitale, ossia l'utilizzo della gestione degli spazi nella comunicazione, nel rapporto tra te e il tuo interlocutore. Notai che praticamente esprimendo i contenuti di un messaggio, spostandosi con il corpo in avvicinamento e in allontanamento nei confronti dell'interlocutore e questo creava nell'interlocutore dei forti carichi emotivi e emozionali e quindi dei forti contatti con l'inconscio, in sostanza che è nella sua rappresentazione massima. E allora cominciai a definire, evidenziare alcune risposte dell'interlocutore positive o negative a questi avvicinamenti, a questi allontanamenti spaziali durante il dialogo. Mi resi conto che la presenza di soggetti che rifiutano l'avvicinamento oltre gli 80 centimetri e altri invece che lo gradiscono. Ed ecco che in questo caso si è impostato un codice di relazione tra noi e l'inconscio in cui non solo il nostro movimento in avvicinamento e in allontanamento diveniva un atto di comunicazione ma anche la risposta del nostro interlocutore, la sua reazione in sostanza emotiva era un altro messaggio di accettazione o di rifiuto. Ecco che in questo caso si andava a impostare un rapport molto importante, si poteva interagire con l'inconscio, con le emozioni del nostro interlocutore parlando di qualsiasi cosa usando questi sistemi prossemici di avvicinamento e di allontanamento. naturalmente è preciso che ci sono persone che gradiscono l'allontanamento dalla posizione neutra di 80 centimetri e altre invece l'avvicinamento. Quindi abbiamo risposte non verbali diverse a secondo dell'avvissuto della persona perché simbolicamente per esempio ha un valore diverso il mio avvicinamento corporeo o il mio allontanamento dall'interlocutore, dipende dal vissuto di questo interlocutore la reazione che lui manifesta. Ecco diciamo se ha sofferto perché per troppo interesse genitoriale verso di lui e quasi per oppressione genitoriale, questa persona amerà lo spazio di allontanamento e non di avvicinamento e quindi l'inconscio esprimerà segnale di gradimento nell'allontanamento. Se invece ha avuto un genitore assente, al contrario l'inconscio gradisce l'avvicinamento. Quindi potremmo definire che questo avvicinamento o allontanamento spaziale rappresenta per l'individuo uno stimolo affettivo molto importante che riflette il suo vissuto, la sua vita. Ed ecco che quindi la prossemica ha avuto uno dei ruoli importanti nell'induzione ipnotica. Non c'è dubbio. E il sistema invece relativo ai gesti, cioè la cinesica? Un secondo canale di comunicazione è proprio quello della cinesica, ossia dei gesti di comunicazione, che ha anch'esso un obiettivo emotivo e si essenzializza attraverso gesti e segni, quindi movimento delle braccia, delle mani con il nostro interlocutore. Ecco che in questo caso quindi dobbiamo fare una distinzione diversa, dobbiamo valutare la metà del corpo dell'individuo, ossia dalla cintola in su, dalla cintola in giù potremmo definire. Qui abbiamo due stimoli diversi. Se io gesticolo in basso, ecco, ossia in basso alla vita e quindi dalla cintola in giù, e che posso fare in diversi modi, mentre parlo... Anche mettendo le mani in tasca, per esempio. Mettendo le mani in tasca, quello è già un digitale, però intanto muovendosi praticamente in questo modo, per esempio, è chiaro che mando delle induzioni specifiche che potrebbero avere una valenza diciamo così sessuale, in quanto dalla cintola in giù, diciamo, la zona praticamente sessuale è quella più rilevante, mentre dalla cintola in su praticamente ciò che psicologicamente e simbolicamente viene rilevato come evento importante è il cuore, quindi l'affettività, quindi le emozioni. Quindi affetto, affettività e sessualità sono i due elementi che entrano in gioco con la comunicazione gestuale. Tra altre cose non solo quella gestuale, della cinesica, ma anche quella della digitale, ossia dei toccamenti, ha le stesse regole, ossia anche essa si basa sulla possibilità di toccare parti del corpo dalla cintola in su o giù. È chiaro che in questo caso abbiamo delle risposte diverse da parte del nostro interlocutore. Non è necessario gesticolare o toccare il corpo dell'individuo, o gesticolare proprio davanti all'individuo nel senso proprio in avvicinamento, basta gesticolare anche con se stesso davanti all'individuo che si ottiene lo stesso evento. Io penso che quindi prossemia, cinesica e digitale sono i tre elementi di comunicazione importante, non verbale o se preferite di stimoli, atti ad aprire le emozioni dell'individuo. A cui si aggiunge un quarto canale, che è quello della paralinguistica, che sono suoni vocali o strumentali, che hanno la stessa finalità, ossia la possibilità di sensibilizzare l'inconscio in modo gradevole o di rifiuto, perché anche in questo caso, secondo l'aspetto binario inevitabile, abbiamo una reazione positiva o negativa a questi stimoli, e quindi potremmo usare suoni armoniosi della voce, per esempio, come sto facendo adesso, oppure suoni di comando, come potrebbe essere adesso espresso questo suono di comando. Quindi, come è meglio tonificare la nostra voce per poter raggiungere un obiettivo, per esempio, prendimi un bicchiere d'acqua, lo potremmo dire in diversi modi, prendimi un bicchiere d'acqua per cortesia, ecco in modo armonioso, oppure prendimi un bicchiere d'acqua per cortesia, ed ecco, quindi è un tono di comando. Quale dei due toni gradisce il nostro inconscio? Per spingere la persona a farti portare con gioia e con piacere questo bicchiere d'acqua, questo lo potrai scoprire ogni volta che girai di conseguenza, provando queste due tonalità della voce e quindi usando la paralinguistica come sistema di intervento. E verificando proprio le risposte dell'individuo attraverso degli atti analogici, di gradimento, di rifiuto o di scarico tensionale. In piena, diciamo, aspetto comportamentale, che prende in considerazione eventi importanti di stimolo, risposta e rafforzo in sostanza. Stimolo vuol dire espressione, per esempio, paralinguistica, suadente o di comando. risposta dell'inconscio della persona, positivo o negativo. Ma vedremo come? E a questa risposta abbiamo il rafforzo, ossia andiamo a rafforzare quel segnale che viene gradito dal nostro inconscio, attivando così una fase induttiva di sensibilizzazione dell'inconscio, molto profonda e questo continua.